Due metri quadri al secondo, 19 ettari al giorno. Questa la velocità del consumo di suolo in Italia, dove ad oggi 21.000 km quadrati sono cementificati e gli edifici occupano 5.400 km quadrati, una superficie pari alla Liguria. È l'allarme lanciato dal WWF in occasione della giornata mondiale del suolo, che si celebra il 5 dicembre. Nel 2021 abbiamo raggiunto il picco di cementificazione degli ultimi dieci anni, avverte WWF, sottolineando che il 16% del territorio è in aree ad elevato rischio idrogeologico e sono 6 milioni le persone interessate, che cioè vivono in aree di potenziale rischio. Per non ripetere altri drammi come quello di Ischia, l'ultima cosa che dobbiamo fare è continuare a costruire. Discorso a parte, lo merita il fenomeno della frammentazione, che minaccia la biodiversità e contribuisce ad alzare il tasso di estinzione delle specie animali e che in Italia è un rischio sul 45% del territorio. Una legge a tutela del suolo, sostiene l'associazione ambientalista, è urgente, anche in vista della direttiva UE attesa nel 2023, dopo l'approvazione della nuova strategia europea per il suolo al 2030. Robo senza pilota, manovrabili a chilometri di distanza con un click, in grado di tagliare l'erba, potare e applicare pesticidi con assoluta precisione. Drone aerei che, grazie a software di intelligenza artificiale, individuano in un campo le aree compromesse da agenti dannosi per le coltivazioni e applicano i pesticidi solo dove è necessario. E ancora, pannelli agrovoltaici, posizionati a qualche metro da terra, che raccolgono e producono energia solare senza sacrificare ettari di campi. È il mondo della tecnologia applicata all'agricoltura, andato in scena a Cagliari all'Agriverso Agricoltura 5.0. Israele incontra la Sardegna, evento dedicato ai temi dell'automazione, controllo remoto, uso dei droni, sensori, energia e investimenti nel mondo delle campagne. Tutti i campi in cui le aziende israeliane sono all'avanguardia e pronte ad esportare la loro esperienza anche nell'isola. Dobbiamo solo pensare che con la carenza di manodopera non possiamo fare a meno di poter produrre, quindi se non abbiamo manodopera non siamo in grado di produrre. Quindi questa transizione innovazione tecnologica potrebbe permettere alle aziende di poter continuare il loro percorso produttivo. Alimentare una riflessione sulla mobilità innovativa e sulla sicurezza stradale, partendo dalle nuove tecnologie disponibili e dai modelli comportamentali della Green Economy, orientati alla sostenibilità integrale. È stato l'obiettivo dell'evento Mobility Alliance insieme per il futuro della mobilità, che si è svolto la settimana scorsa al Campus Biomedico di Roma. L'incontro è stato l'occasione per discutere delle iniziative concrete che il Campus ha generato sul territorio di Roma, a partire dalla possibilità del servizio di car sharing con stalli dedicati e dall'implementazione di colonnine per la ricarica elettrica nelle aree di parcheggio del Campus Universitario, ma anche del nuovo edificio della didattica Cubo Cultural Box, il primo intervento del più ampio piano di sviluppo più Campus al 2045, che comprende iniziative ambientali e assistenziali, didattiche e sociali. Valorizzare all'interno della nuova PAC nazionale il reintegro della sostanza organica nel suolo mediante l'uso di compost derivato dal riciclo dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione e adottare un sistema di carbon credits anche per chi restituisce sostanza organica nel suolo, rendendolo più sano. È l'appello ribadito dal CIC, Consorzio Italiano Compostatori, in occasione della giornata mondiale del suolo, celebrata con l'annuale convegno dalla terra alla terra. Partendo dal tema del World Soil Day 2022, l'evento è stata occasione per riflettere sull'importanza del suolo, per contrastare i cambiamenti climatici e sugli obiettivi da raggiungere per tutelarlo e preservarlo e sul suo legame con il cibo. Ogni anno, ricorda il CIC, in Italia sono oltre 7 milioni le tonnellate di rifiuti organici che vengono raccolte e avviate agli impianti di compostaggio, producendo circa 2,2 milioni di tonnellate di compost di alta qualità. Essendo un fertilizzante organico, questo compost, restituito alla terra, contribuisce al nutrimento del suolo, garantendo sicurezza agricola resiliente e alla decarbonizzazione. Noi la giornata mondiale del suolo la celebriamo ormai da un po' di anni. Ci teniamo sostanzialmente per due motivi. Il primo, per un'attività informativa, cioè vogliamo spiegare che cosa fa il CIC, che cosa fa l'Italia, soprattutto in questo settore. E poi, per una questione legata alla proposta, magari normative o di policy, quindi di politica ambientale, che possono essere messe in atto. Per quanto riguarda il primo punto, diciamo che l'Italia è un paese eccezionale, perché ricicla veramente tanto materiale organico di scarto, stiamo parlando di più o meno 8 milioni di tonnellate di rifiuto a base organica che viene riciclato e produciamo 2 milioni e 200 mila tonnellate di compost. E quindi abbiamo generato di fatto un nuovo settore industriale che produce un fertilizzante rinnovabile a partire dai rifiuti. Per quanto riguarda invece il tema di quest'anno che volevamo lanciare, sono un po' le note e gli suggerimenti alla politica di intervenire affinché ci sia una buona considerazione di quelli che sono i carbon credits, ovvero perché l'Italia non costruisce prima in Europa questo meccanismo di incentivazione agli agricoltori che utilizzano compost. Quindi questo è un po' quello che noi lanciamo alla politica che giustamente sta lavorando sulla normativa sull'uso del suolo, sul minor consumo del suolo e noi aggiungiamo, quindi chiediamo un upgrade alla politica che intervenga anche sull'utilizzo valorizzato della sostanza organica, quindi per tamponare quelli che sono i fenomeni di desertificazione in atto.